Sulle contradduzioni fatte per venire dai manager di Caltacqua, già durante la riunione dell'1 ottobre non c'è stata convergenza tra i componenti della commissione tecnica chiamati a valutare anche la possibilità di rescindere il contratto con l'azienda Italo Spagnola che gestisce il servizio idrico integrato. La commissione presieduta dal commissario Rosalba Panvini sta valutando tutte le relazioni inoltrate dai sindaci dei comuni della provincia coperti dalla gestione privata. Non mancano i riferimenti e i servizi alle tariffe progressivamente aumentate, anche per ieri era fissata un'altra riunione, i tempi stringono e i lavori della commissione dovrebbero concludersi entro il prossimo 14 ottobre, poi bisognerà trasmettere una relazione finale alla regione, un elaborato che potrebbe segnare il prossimo futuro della gestione privata di un servizio fino ad oggi dimostratasi del tutto inadeguata non solo in città ma anche negli altri centri del lato idrico. L'azienda ha inoltrato osservazioni che andrebbero a giustificare le difficoltà affrontate ma rilanciando sugli investimenti autorizzati per il miglioramento della rete. Della commissione tecnica fa parte, dopo averlo richiesto espressamente, il sindaco Lucio Greco, tra quelli più convinti della necessità di dare segnali chiari, anche valutando la recessione in danno del contratto, una decisione dovrà essere presa a breve.